ok siamo partiti dalle montagne ne siamo diretti verso la penisola sul mare c'è Nadia Cavallitti e anche il mio amico Pier buonasera Pier Francesco Porrelli noto ballerino del Tirolo meridionale e ne siamo lanciati nella pesca sportiva avendo deciso di andare a pescare balene perché così tra dopo nemmeno il pesce e nemmeno i pescati dopo alcuni tentativi mi hai detto ma chi non funziona tanto bene? no era la mia prima volta, la mia prima esperienza a sapere fare qua il barone mi ha dato la cara di pesca faccio vedere cosa è che resta, alza alza questo è il risultato dopo alcuni tentativi si vede bene cosa è che sta e mi ha detto tranquillo che ti sgruppo tu me insomma ti sgruppi insomma dalla montagna è mai tornata? dal mare è mai tornata sulla montagna tornero nella montagna che forse la va meglio e Pier non fai ghiacciare ok saluti a tutti da Cavallino ok seconda parte del filmato gare di pesca sportiva al mare sempre i due montanari stessi sulla penisola a Cavallino vedete che avendo la bandiera ok saluti e questo era il secondo tempo dovremmo dare spiegazioni perché noi siccome ne fa schifo i bissoi allora avemmo messo le scaffine da vedete? il problema è che che diceva Pier ma andiamo al surlo questo era il surlo no? andiamo e mi guardavo nel mare e nel mare nessuno lo vedeva andiamo e la paga la canna su si va la canna da pesca per aria perché 5 metri di canna cosa ti sembrava come prima esperienza sportiva? eh ho fatto un po' di tiro in acqua però poi ho fatto un tiro si vede che la ciappa in marcia in acqua scusa siccome sei più alto devi venire nella parte più bassa perché se il pral va in su ti arrivi ancora qua esatto no perché non mi sentivo all'altezza adesso allora questo è il risultato e comunque entro notte ti sgroppi? entro notte penso di trovare sgropparlo vedete? no perché questo chi va a sgropparlo è un eroe l'autista è un eroe comunque dal cavallino dall'Adriatico con la nostra bandiera abbiamo chiuso la pesca sportiva carichi eh? questa giornata te i pescatori provetti dalle montagne eh stai qua non vedo un tubo Pier aspetta afferma ti togli piatti e te le tiri fuori che devono farvi vedere che non è vale no no non è male tei perchè ti avrei pescato tre orate tre orate tre orate due piccoli una volta tiri le fuori una alla volta ma non lì che ti sgoffia per tutti da più terza giornata terzo tempo i pescatori della montagna sono andati a pescare e abbiamo pescato tre oratine questa è la pescata del barone questa è una ratta da mezzo chilo e noi che credeva i pescatori erano tutti incassati con noi perchè non non pesca niente perchè noi venimmo dai ghiacciai e noi che venimmo dai ghiacciai abbiamo pescato ecco qua cena assicurata perchè piace al pesce ok girate direttamente da cavallino direttamente da cavallino ben pescato questo pesca tutto eccolo qua anche le balini le balini la ben pescate cassadori tutti incassati perchè noi che non siamo buoni la benciapati ci sono tutti 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 ci sono tutti